Con la preghiera del cuore noi siamo chiamati a entrare nel nostro cuore, che è il tempio nel quale Dio vuole abitare e nel quale trovare le sue delizie. Ma anche noi possiamo abitare nel cuore di Dio, e il cuore di Gesù, il cuore che è stato aperto dalla lancia di Longino per noi, è il cuore colmo e traboccante d'amore nel quale possiamo trovare la nostra gioia. Nel libro Un lembo di vita buona, di antichi autori certosini, c'è una bellissima meditazione che come titolo porta figli miei, datemi il vostro cuore. È tratto dal libro dei proverbi, la citazione nella quale proprio Dio chiede a noi di dargli il nostro cuore. Non c'è nulla che Dio desideri più che il tuo cuore. Non ha detto in effetti, figlio mio dammi il tuo cuore, in proverbi 23-26. Osserva bene, Dio vuole che tu gli dia il tuo cuore, e che tu non ti limiti unicamente a prestarglielo, perché vuole essere il vero e perpetuo proprietario. Vuole abitarci e possederlo, non per un certo tempo, ma per sempre, non a titolo di ospite, ma come maestro e signore. Vuole essere il solo a possedere il tuo cuore, affinché gli omaggi, le nodi, gli atti di abbandono alla sua volontà e le azioni di grazia che offri vengano dal cuore. Infatti il cuore è la fonte di ogni bene, come di ogni male. Ed ecco perché Dio reclama il tuo cuore, che vuole anche nella più piccola fibra. Non c'è nulla di stupefacente se ti reclama interamente, lui che si è donato per primo del tutto a te. Ma offrirlo al Signore solamente ogni tanto, che poi è quello che noi spesso facciamo, che ci dimentichiamo di Dio, che ci dedichiamo a Lui qualche volta, quando è il momento, quando è il tempo della preghiera, quando è il tempo delle lodi, quando è il tempo della Santa Messa. Insomma, in certi momenti istituzionali. E per il resto la vita è nostra e che Dio non ci metta piede. Ecco, questo è molto brutto. Perché Dio vuole tutto il nostro cuore. Dio vuole che gli do il tuo cuore, non certo che ti accontenti di lasciarlo in affitto. Affittare il proprio cuore e offrirlo a Dio in vista di una ricompensa. Tu che agisci per un motivo così poco generoso, renditi conto di questa parola del Santo Evangelo perché si indirizza proprio a te. Hanno già ricevuto il loro salario. Se è per vantaggi materiali, per motivi di salute, per vanagloria che servi il Signore, allora devi affidare il tuo cuore e offrirglielo solamente a motivo del salario che ti interessa. Anche Dio non vuole che tu venda il tuo cuore. Vendono il loro cuore quanti servono a Dio unicamente in vista del cielo e delle sue ricompense. Che non è mica una cosa brutta, non è una cosa brutta, anzi desiderare le ricompense che Dio ci ha promesso è effettivamente conforme a quello che Lui ci ha promesso. Senza dubbio la bellezza del cielo non è altro che Dio stesso. Tuttavia questo genere di amore e questo desiderio esclusivo della ricompensa sono ancora troppo interfetti perché soprattutto a motivo del tuo interesse che desideri questo bene che deve renderti felice. Non vedi nelle gioie celestiche una vita senza tristezza e senza pena dove si trovano le consolazioni e che è il rifugio delle pene e del disgusto. Se è questo il motivo che ti porta ad amare e a desiderare un paradiso se non servi Dio che per procurarti questi vantaggi allora vende il tuo cuore a Dio perché non lo serviresti affatto se non pensassi di ottenere attraverso questo mezzo le gioie eterne. In realtà un tale amore ricerca troppo se stesso. E' per questa ragione che il Signore vuole che gli doni il tuo cuore e ne lo doni così interamente da desiderare se fosse possibile di non ricevere nulla per questa offerta. Non è per te ma principalmente per Lui che devi servirlo perché sebbene sia perfetto in se stesso ricevi da te l'ode e onore. Dona dunque il tuo cuore a Dio a nessun altro che a Dio è giusto, onorevole proficuo donare il tuo cuore perché è a Dio solo che dobbiamo tutto ciò che siamo. Quello che noi siamo da chi ci deriva? Solamente da Dio. Se siamo intelligenti se siamo capaci di fare qualche cosa se abbiamo delle ricchezze di qualunque genere tutto ci viene da Dio che è il nostro tutto il nostro avere nel nostro essere. e Lui non desidera che il nostro cuore se lo possiede è contento. Vogliamo fare contento il Signore che tutto ci ha dato? Certo, fratelli facciamo contento Dio. Possano tutti quegli uomini che gettano il loro cuore a non si sa bene che cosa donarlo infine al loro buon maestro al loro migliore amico al loro salvatore al loro Dio. Ecco, anche noi vogliamo questo. Questa è una meditazione di Lanspergio che è un certosino pieno e infiammato dell'amore per Dio che ha capito come va bene forse all'inizio del verare Dio per possederlo, per avere tutti le benedizioni, i benefici, le gioie eterne di avere Dio. ma noi vogliamo Dio per Dio stesso, per fare felice Dio perché ci siamo innamorati di Lui e vogliamo farlo felice perché tante persone lo rattristano, lo feriscono e dimostrano tanta ingratitudine e allora noi vogliamo consolarlo con il nostro amore gratuito, con il nostro amore generoso col quale ci offriamo totalmente senza nulla riservare per noi stessi. Ecco, questo, proprio come il titolo di questo libro, è un lembo di vita buona, è il riposo nel cuore di Dio. Allora continuiamo a leggere, a riprendere in mano, a meditare, a pregare su queste belle parole anche con questi libri, un lembo di vita buona, per poter infiammarci ogni giorno di più per l'amore di Dio. Grazie. Grazie. Grazie.